Gli Oscar celebrano la storia americana, passata e recente. 12 candidature per Lincoln di Steven Spielberg, la battaglia politica per procurarsi nel campo avverso, i voti necessari all'approvazione dell'emendamento che abolì la schiavitù. 7 candidature per Argo di Ben Affleck, che racconta la rocambolesca liberazione di 6 americani rifugiati all'ambasciata canadese di Tehan nel 1980. 5 candidature per Zero Dark Thirty, il film di Catherine Bigelow che racconta la cattura di Osama Bin Laden. Perfino l'Outsider, il piccolo film indipendente intitolato Bestie del Sud Selvaggio e diretto dal trentenne Ben Zeitlin, ricorda l'inondazione in Louisiana. La protagonista, Corenzanne Wallis, ha 9 anni ed è la più giovane candidata all'Oscar come migliore attrice. Con i suoi 85 anni, Emanuele Rivà è la più vecchia. Recita in Amora di Michael Anecke, candidato come miglior film anche se batte bandiera europea, e candidato ad altre 4 statuette, racconta la vecchiaia in maniera spietata. Troppo onore per Le Miserable, candidato tra i 9 titoli migliori dell'anno e, nonostante il musical, abbastanza mal riuscito. Calizare la scontazione in maniera spietata, e questo anche per Paese di Maggiore,